Oh oh, ciao a tutti amici, sono Babbo Natale, è bellissimo ritrovarvi qui, nell'ufficio postale di Nobabi de Lazob, spero stiate tutti bene, io, come ben vedete, sono ancora vivo, eh 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 Sos, con estoni, o ischne sono osiach o di poch Ma siach, non mi ischne, ha trasusci avvino feste, eh Ma siach, non mi ha paghe, ma ci siach, tu ero faufe, siaches Quest'anno, ho deciso di scrivere una letterina di invito ai miei cari amici pooper Per fare una poop, tutti insieme sul canale di Idiot Camel, per la vigilia del Natale del Male Posso già svelarvi? Quali pooper ci saranno? Non vediamo l'ora di guardare la colla in diretta insieme a voi, quindi cercate di essere pazienti, arriveremo presto Eh eh, ricordatevi di guardare le poop Eh 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 ehleen Grazie a tutti.